Calcio femminile provinciale in fibrillazione, vediamo il perché. Calcio femminile Vandoies, Stella Azzurra, Bolzano, parte la sinergia. Per il settore femminile della Stella Azzurra il futuro è sempre più rosa perché proprio in questi giorni è stata battezzata la collaborazione tra la società bianco-celeste e quella neoprofessionista del calcio femminile su Tirol Vandoies. Le ragazze bianco-rosse della Presidente Luca Dallatorre hanno recentemente conquistato la promozione in Serie A2, un traguardo storico per il calcio alto-tesino che potrà quindi offrire uno spazio maggiore alle giovani calciatrici. In questa prospettiva si inquadra l'accordo stipulato tra la Presidente della Stella Azzurra Filippo Rosace e quello del CF su Tirol Luca Dallatorre. La Stella Azzurra sarà per il CF Vandoies il partner di riferimento nella città di Bolzano per la cura e lo sviluppo del calcio femminile. Una sinergia forte e strutturata il cui obiettivo è quello di porsi come centro di raccolta e di selezioni per le giovani calciatrici del capoluogo. Stella Azzurra e Vandoies daranno così vita ad una scuola calcio femminile, serbatoio naturale per un movimento sempre più in espansione. Grazie. 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 Grazie.